La logopedia è una disciplina sanitaria che si occupa della valutazione, della riabilitazione, della comunicazione del linguaggio in età evolutiva e in età adulta, nonché delle problematiche legate all'apprendimento delle abilità scolastiche di lettura, scrittura e calcolo. Un genitore può rivolgersi al logopedista quando nota nel suo bambino un ritardo nella comparsa delle prime parole oppure la difficoltà a formulare frasi di senso compiuto o quando il linguaggio spontaneo risulta di difficile comprensione a causa dell'assenza di suoni nell'inventario fonetico o della sostituzione degli stessi con suoni inappropriati. Ad esempio può succedere che un bambino intorno ai 4 anni sostituisca il suono V con B e quindi parole come tavolo o vento vengano prodotte rispettivamente come tavolo e vento. Oppure parole come stella o pasta e vengano prodotte come tella o patta. Ad esempio quindi una frase prodotta da un bambino con questo tipo di difficoltà potrebbe essere di questo tipo. Palla E su tavolo dove notiamo una difficoltà nella produzione dei suoni ma anche nell'uso degli articoli.